Ha un rigore che ha indirizzato una gara, difficile da digerire, poi una volta riaperta dovevamo essere un pochettino più attenti perché sapevamo che cercavano le ripartenze e il gol del 3-1 ci ha piegato le gambe in quel momento che eravamo in forte risalita. Devo essere sincero che di spazi era difficile trovarne perché si sono difese in 11 negli ultimi 30 metri, non era semplice. Dobbiamo prendere questa sconfitta nel migliore dei modi, analizzarla sapendo che abbiamo tenuto molto bene il campo contro una squadra forte che ripartiva velocemente. Dovevamo essere più bravi a non concedere le ripartenze, soprattutto quella del terzo gol. I primi due gol sono stati molto fortuiti.